5, dai dai dai, sei a mezza, sei, sette, vai 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 vai, otto, vai vai vai, nuove, vai vai vai, dieci, con l'accompagnamento, ragazzi, ma perché arrivate là e volate, volate direttamente qua, la convergenza, la convergenza, arriva il finale ho paura dello stracello, no no, facciamo giocare più grandi, vediamo se riusciamo a fare, anche una donna avrei voluto, con meno giri, venga, venga, se il suo marito la spinge vuol dire che è in grado di farlo, se se la sente sono meno giri, sette giri, per le donne sono sette giri, altrimenti facciamo l'ultimo one, si può testimoniare che non è pericolo, vieni, vieni, allora, finiamo con lui, vieni, la tua ultima sbronda, di ieri sei anche tu, un mese fa, un mese fa di cosa? 3 di e rete, 3 di e rete, 3 di e rete, hai comitato? Uggiamo con lui, l'ultima volta che è comitato? Oggi? Adesso porto come sei, spero anch'io perché se io vedo vomitare, comito anch'io. Hai fatto colazione? Latte? No, meglio, meglio, che il latte torna sempre su, allora, anche tu non capisco che succede qua, capito? C'è dovuto qua, succede qualcosa Che svenite Sei pronto? Puoi già posizionarti 10 giri anche per te Si parte al mio via, Aldo è pronto 3, 2, 1, via Veloce, veloce, veloce Veloce, veloce 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 6 7 8, veloce, veloce 9, 10 Minuto, paralo Sotto l'incrocio Bravo Bravo Secondo me giochi a pallone così Cioè prima di iniziare una partita Nello spocatoio Ti carichi, bravo Complimenti Hai vinto il pallone di Radio Selene Adesso